ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video io sono Alessia e bentornati in un nuovo video e siamo dopo un bel po' di giorni infatti ragazzi è uscita il nuovo aggiornamento K.O. e niente ho fatto le sfide sono arrivato a 43 casse che poi me ne sono aperta una non reccando e 43 casse ragazzi bellissime buonissime ce ne andiamo ad aprire oggi e ho scoperto una cosa fortissima ragazzi guardate il colore non è un glitch secondo me l'hanno fatto apposta tu clicchi sopra e ti da l'immagine del cane prova e puoi provare anche la skin c'è guardate guardate clicco su non è un bug raga non l'ho bugato comunque abbiamo altri brawler da poter potenziare tantissimi gadget da trovare due poi aspetta un altro qua di Beryl questo qua l'ho completato quello di Colt boh perché l'ho portato a 7 e stecca 1 e anche qui poi Jackie pocio e basta ragazzi è tanto eh è tanto si può trovare spero qualcosa perché veramente se non troviamo niente ragazzi sono deluso veramente tanto quante monete siamo ok vai andiamo aspettiamo guardiamo un attimo le percentuali comunque ragazzi è uscita sendi con le con l'euro non so che cosa è successo l'emoticon epica che io non ho non ho niente sono povero sono povero sì lo so mi spiace sono povero questo qua ormai non la posso neanche prendere non ho i punti allora dai un po' ho due gadget ci possono stare in 40 casse secondo me vabbè cosa mi significa vabbè boh boh adesso mi potenzio un roll e mi faccio mi faccio bull non posso ancora no e va bene che trigger niente rip 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 vai potenziato al 7 giusto ok ce ne abbiamo al 7 ragazzi bull mi stanno un po' deludendo le casse per favore io spero qualcosa ci ho capito ho trovato tipo un un viaggio di quello lì del telesport quella torretta quando attivi la ulti e quelle cose lì ne ho trovato uno ma è uno cioè non è che è chissà quanto cioè è pochissimo già almeno un gadget di bea non so qualcosa di sexy non so boh vedete voi quello di poch questo qua è buona è buona 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 e portiamo con un gadget signori buono buono dov'è poch questo qua buono 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 signori è buono me lo posso pushare al 20 di zghere ok non so bella per pietro che è il lobby è buonissimo anche i doppi aggettoni che mi si avrebbero per la prossima season almeno un gadget l'ho trovato però io vorrei anche qualcosina in più proprio di godimento assurdo questo anche al gadget raga ne ho troppi al set e non trovo gadget cioè veramente raga ne ho troppi e ma che scama me ne ha dati due e quattro di o dai raga ma non scama ma che scama ma che scama non mi dà la cosa aprimi è tutto uno scam di che lo posso potenziare no mi manca ancora questo qua raga è un box opening eh sappiatelo forse aggiungerò all'ultimo proprio all'ultimo qualcosa 23 bellissimo da no che scama non c'è neanche quello lampeggiante buoni punti per energia per energetic mi sto deludendo io lo dico quanto è brutto pro stars e ci facciamo anche questo asset li ho fatti tutti asset boh raga io non trovo niente lol no ma adesso aspetta un attimo vado a vedere le percentuali perché se non c'è niente c'è un piccolo bug raga nel server chiudo bro stars poi lo riapro si si c'è un bug c'è un bug c'è un netto bug da parte di bro stars e rientro perché cancelliamo cancelliamo questa email entriamo giustamente giusto addio mio adesso vedi che non lo facciamo entrare la madò secondo me non porta eh ragazzi purtroppo ho droppato edgar purtroppo raga non era in mia intenzione dropparlo però proprio non ce la facevo a riportarmelo a 7.50 me lo farò quando riesco me lo faccio e non so neanche che brawler mettere io vorrei sprut che sarebbe semino ovviamente perché non lo saprebbe ah bla 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 e anche dano ma è che è lì al 7 più o meno mettiamoci un brawler che mi mancano il gadget mmmm e vorrei questo mi piacerebbe il gadget quello lì del cuore che ti fa 1500 di botta di cura che proprio vai dritto in porta con la palla in food bro e posso potenziarmi tic a se vada vabbè aspetto la fine del video così almeno lo faccio vada cioè io non vorrei dire però c'è tipo qualcuno che ha trovato tantissimo in un box opening di 60 casse che ci skip io non trovo niente boh o oh signori 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 doppio skip un altro skip non mi ha preso il touch buono buono per carità buono è un gadget comunque è un gadget bellissimo 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 god 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 buono 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 e abbiamo anche quello di 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 be almeno almeno qualcosa in più è buono 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 signori io adesso le apro tutte così io non voglio dire sarà tipo sette minuti così però lol c'è il mio il mio bug è che quando si alza le probabilità dei leggendari esce un gadget lol è perché era arrivato forse mi sono fatto egar maz max forse non gli manca ancora cenni 90 punti ecco si l'indicesima cassa niente ma eh quanti gittoni quanti così abbiamo figli eppure questo un altro al sette raga non so ne ho troppi al sette lol veramente ne ho troppi signori ne ho troppi dov'è qua c'ho un po' la voce rauca quanti doppi aggettoni abbiamo per carità perché ottocento l'amato quale probabilità sono sempre le stesse cioè boh dai per favore datemi qualcosa bellissimo sto lato bellissimo bellissimo aiuto e poi le queste casse qua va bene 45 cioè non mi dai niente lol e non ci sta e dai però o mi dai tanto oro o niente o dammi lo skip no c'è e siamo a mille tira doppi aggettoni dai l'ultimo skip datemi l'ultimo skip perché sennò non gioco più a sto gioco sto piangendo sulle mie boh sto piangendo un altro al 7 raga ma dai c'è adesso no adesso mi conto quelli che ho al 7 adesso mi conto io non ho 1 2 3 4 4 ne ho 4 5 6 7 8 9 10 11 12 raga ne ho 12 su 34 è quasi la metà raga che c'è quasi la metà mi mancano 4 ragazzi io non ho parole o mi esce all'ultimo leggendario perché veramente se no non ho mai fatto un box opening cioè così lungo no perché alcuni si però ho fatto anche delle partite nel mentre già in mezzo quindi ehm 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 ho trovato due skip però cioè non è che sia chissà cosa 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 no male però cioè boh ma hanno un po' illuso le scasse perché trovare due skip e uno youtube e ne ha trovati 10 è un po' deludente cioè cioè come posso dirvelo adesso ho questo adesso ho questo vabbè che sarà mai oddio ho quello di pocio che è buono questo cioè cioè per per l'area delle stars che comunque inizia pocio adesso con il gadget quello posso utilizzare cioè però però tipo raga ho bombardino che mi mancano tutti e due gadget di questo mi mancano tutti e due gadget ticchi che mi mancano tutti e due gadget pocio me ne manca uno Jackie me ne manca uno eh Frank me ne manca uno eh me ne manca uno perché una è bassa qua due eh poi Dana Mike due cioè poi Colt due Beryl uno Beryl si è quello che è poi il miele mieloso di Bea mi ne manca uno che è che è l'era poi Iris ce li ho tutti e due ho anche l'altro come potete vedere però secondo me è meglio riflettere i colpi perché questo qua si va bene per carità però 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 adesso quanto faccio con questo faccio due mila assisi due mila ottocento faccio con questo no due mila ottanta scusate due mila ottanta aia 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 boh vabbè vi faccio proprio una partita con sto gadget per vederlo e basta no rapina no perché fa schifo andiamo qua smodata durerà troppo durerà durerà cinque minuti c'è fai un po' di danno però c'è nessuno ve l'è reattivo raga guarda c'è un po' scadente però vabbè un po' scadente però vabbè metà non ho sciato boom 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 ma dai ma vi siete fatti sconfiggere come dei botazzi boom boom rallenta però rallenta non è la velocità puf puf aiuto no raga sono morto che casino che casino raga che casino che casino che casino vabbè ma lasciamolo a me ma egoista poi ho finito i gadget almeno faccio mille adesso let's go boom boom signor robot signor robot si calmi si calmi per favore si calmi si calmi si deve calmare porca miseria le mani non ho parole raga mi ha ucciso il bottino sono terrificanti perché tu pensi al boss e arrivassi qua si dice niente cosa non mi so ma comunque peli c'ha il gadget più peggiore da usare in sta modalità me ne vado me ne vado sono una mia giusto e io mi sposterei al centro non so voi signore le piace stai qua al mare ma si aiuto luca tommy devi stare fermo ciao bro tutto bene in famiglia vero 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 stai calmo un attimo grazie alla madonna calmo un po un po poco un po un po poco un po poco aiuto c'è vedi ti ha salvato ti vedi assolutamente ti ha salvato morto no no dai dai scam comunque e vabbè sì avevo trovato troppo troppo ma sapete che forse una se adesso nerdo tantissimo ma no non ce la faccio è meglio tenersi di non giocare va tanto domani vado a scuola quindi niente quindi niente ciao mancano così gadget così tanti anzi sapete cosa vi provo pure questo vi provo pure questo lo faccio solo perché sono bravo non so neanche a cosa serve però va bene si sperimenta tutto desghieri in pratica tu devi curare un compagno quando c'è procca vita capito bellissimo che forseicosia vabbè no no ho nozzi ci schiene salva due swift salvo Guarda, guarda la curetta che funziona, tatticissima, tatticissima, signori, proprio lui, proprio lui, quello vero? Pam, 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 a me no, adesso tolgo mille, abbastanza clean, clean, chillissimo, signori, vabbè, io nemmeno mi sto facendo, madonna, aiuta, guardalo, guardalo, ho preso la ultima, ma chi, lo uso adesso? No, io lo tenerei, lo tenerei, cioè, tipo, prima era una bella situa, oh, cacca, ecco, adesso lo uso, magari, no, 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 non c'è, non c'è, sì, c'è, c'è bisogno, lori, c'è sempre bisogno di una mano al college, oddio, Vicini, 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 in their school house, Allora Ah sta bene qua sta moredo raga Aiuto Mi ha lisciato No dai raga ma Ma che schiamo Mi sacrifico Mi sacrifico per la patia Non è vero mai Quello vero non è fake Bellissimo Era ancora vivo Proprio lui E si prende un power up Giusto giusto No raga Aiuto Immortale è proprio lui Se la tenda Sono arrabbiato Vabbè mamma Triturato Ma cioè Mamma bu Vabbè Con pocio magari non fate queste cose Del genere se non Ce l'avete max e ha molte coppie Che trovate qualcuno di più forte Non come questa penna Penna bellissima Oh no 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 Cioè, ma ti fai uccidere così? Ma, cioè, scusa, eh. Poi muo... No, no, raga. Mi sa che c'è un piccolo problema di sistema. Bisogna... Spero che muorano così, almeno io qui. Cioè, mi faccio uccidere, perché... Non muoiono, ragazzi, non muoiono. Sì, guardalo, guardalo, è fame! Ma è impossibile che ce la facciamo, cioè. Potete morire, please, sent. Dagli, uno è morto? Dagli, uno è morto? Eh, vabbè, eh... Sì, dai, sì, e cos'è? Mafia, mafia! Siumate! Siumate! Guardalo, guardalo, guardalo! Ma vai ad attaccare lui! Ma mannaggia tu è, robot del cavolo! Signori! No, non volevo scrivarlo, eh, niente. Ragazzi, non muoiono! Ragazzi, sta diventando troppo lungo il video. Per favore, chiudete! Deve morire... Ragazzi, mi dichiaro. Ciao. Vabbè, cioè, la finisco io fuori cama, perché... Dunque non ce la facciamo, è palese. Niente, ciao! Bella, lasciate un like, arriviamo a 5. Like e farò la stessa cosa con lo stesso pass del prossimo. Oh, perfetto, sono morti. Let's go, ciao!